C'è un piatto povero dei nostri contadini che la sera tornarono dalla campagna le donne mettevano su una fontana sulla fianatoria farina e acqua e si impastava si facevano chiamate dal nostro paese le stracciose pappardelle il procedimento è mettere la farina sopra una fianatoria fare una fontana mettere l'acqua la dose dipende dalle persone per quattro persone mezzo chilo di farina l'acqua quella che raccoglie quella che assolbe la farina si fa la pasta si stende la sfoglia si lascia asciugare per un po' poi si avvolge e si taglia a 2-3 cm di latte la pasta si lascia asciugare per un po' di oliva che abbiamo noi pomodoro di pachino aglio e un pochino di sale si fa cocere un quarto d'ora nemmeno è super pronto un po' di basilico e le stracciose sono pronti un po' di basilico e le stracciose di basilico si lascia asciugare per un po' di basilico si lascia asciugare per un po'